Il 10 aprile 2019 sono iniziati i lavori di demolizione delle scuole Carracci nel quartiere Porto Saragozza. Oggi è una bella giornata per questa zona del quartiere Porto Saragozza perché partiamo con i lavori di demolizione delle ex scuole Carracci. L'intervento è un intervento davvero estremamente atteso da questa zona. In un paio di mesi l'intervento di demolizione sarà completo in modo totale, nel senso che verrà demolita la struttura ma anche portato tutto il materiale della demolizione fuori da questo meraviglioso scrigno incastonato in questa zona. Quindi avremo finalmente il terreno pronto per l'edificazione della nuova scuola. Avevamo preso un impegno con i cittadini che era quello di lavorare sia sulla demolizione ma anche sulla progettazione della nuova scuola. E quindi ci tengo anche a dire che siamo assolutamente in linea rispetto ai tempi che ci eravamo dati. La gara di progettazione ha già il suo esito. Faremo un incontro pubblico nella sede del quartiere insieme al presidente Cipriani. Incontreremo i cittadini e insieme a loro, come era un impegno che ci eravamo assunti, penseremo a come progettare la nuova scuola. Ma l'obiettivo ovviamente è avere una scuola nuova, bella, necessaria per quanto riguarda i ragazzi e i bambini di questa zona della nostra città.